L'edicola dei tre scalini va chiusa temporaneamente? Tecnicamente sì. Dobbiamo chiudere con la legge nuova, professore. No, perché? Perché la legge nuova si è messa la vecchia. No, ma dice che bisogna chiudere fino alle 6. Fino alle 6, dice Re. Sì, perché dopo le 6... L'edicola dei tre scalini deve chiudere e deve riaprire dopo le 6. No, deve chiudere. Deve chiudere fino alle 6, perché gli altri stanno aperti fino alle 6. E poi dobbiamo servire ai tavoli adesso. Cosa? Ai tavoli, solamente ai tavoli. Deve deve servire ai tavoli adesso. Hanno detto così, solo ai tavoli. Quindi rimaniamo aperti noi. Sì, ma noi siamo ai tavoli. No, noi siamo ai tavoli, rimaniamo aperti, professore. Rimaniamo ai tavoli. Rimaniamo aperti, allora. Rimaniamo aperti. Va bene. Poi chiudiamo alle 6. La chiudiamo alle 6, è fatta. Poi facciamo venire fuori il barista. Dalle 6 in avanti c'è il virus che gira. C'è il virus che gira. Fino alle 6 stiamo tranquillamente. Il barista con la maschera. Lui c'è già il virus, lui. Lui ce l'ha già. Chi è? I maroni, cioè. I maroni. C'hai una gran tosse tu. C'è gente che fa la tosse.